Una lista composta da amministratori, da ex amministratori che hanno un'esperienza amministrativa sul campo nelle istituzioni locali. Insieme, perché è un insieme che stiamo componendo in tutto l'Abruzzo di questa esperienza, con un bel verde, come si vede, di speranza e con il nome del nostro candidato presidente, un abruzzese che conosce perfettamente la nostra regione, le sue esigenze con una grande prospettiva di cambiamento per le tante cose che non sono andate in questi anni e dove è stata portata oggi la regione con la targa centrodestra. C'è una necessità di invertire la rotta e con questa squadra, con il patto per l'Abruzzo, con le altre forze politiche di centro-sinistra possiamo davvero pensare di cambiare le cose. Vi è una necessità forte di far comprendere i temi sui quali bisogna puntare per il cambiamento. Dicevo tante le cose che non sono andate. Chi si accontenta di questo stato di cose, cioè di una regione che non funziona, della sanità, del lavoro che non c'è, dei trasporti pubblici, delle difficoltà che hanno le imprese agricole, ovviamente può accettare questo stato di cose. Noi diciamo che bisogna cambiare e cambiare in tanti aspetti. accontentarsi di una regione che è penultima in sanità tra le regioni italiane è davvero poco. Bisogna riportare questa regione tra le prime cinque in Italia, così come per il lavoro, l'occupazione giovanile. E non solo l'occupazione giovanile, c'è da lavorare con uno sforzo grande tra il mondo del lavoro, delle imprese e coniugarle con il mondo della formazione. Un lavoro che non è stato fatto appieno, ampiamente insoddisfacente e su cui si deve concentrare moltissimo la prossima amministrazione regionale. Per questo credo che sia importante andare a votare, aumentare il numero delle persone perché andando in giro si percepisce che c'è delusione e questo verde della speranza è un verde che noi vogliamo fare arrivare come messaggio alle persone perché si può cambiare, secondo me si deve e si può fare con una nuova classe dirigente, con Luciano D'Amico Presidente. Grazie.